Cari amici, buongiorno, anga, aridanga, ariumba, coiumba e alla fine qualche cosa asce fuori. Anche il nostro commissario straordinario si sta dando da fare sulla STS, azienda speciale multiservizi. Nessuno ne parla a Frascati, nessuno ne parla, nonostante ci sia qualche problema. Ed ecco quindi che con una delibera di quelle senza sé e senza ma, con i grandi poteri di cui il commissario straordinario gode, ecco questo editto dove si prende atto di una certa situazione di difficoltà generale che c'è e finalmente si comincia a parlare di trasparenza. Dice il commissario che la trasparenza rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione. Si invita pertanto l'azienda speciale multiservizi STS ad adeguarsi agli obblighi in materia di trasparenza amministrativa. Si raccomanda conseguentemente all'azienda speciale multiservizi STS di garantire un aggiornamento costante delle notizie, finalizzato a rendere più facile l'accesso alla cittadinanza. attività, voglio ricordare che sul sito della STS azienda speciale non c'è nemmeno lo statuto e poi fornisce alcune indicazioni, attività a rischio, misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate. Il direttore, si parla qui del direttore generale, propone al Consiglio di amministrazione l'acquisto di beni e servizi, la proposta viene deliberata dal Consiglio di amministrazione. Pecchiato che in tutto questo dispositivo nel silenzio generale della ex politica frascadana manchi una sottolineatura. Il Consiglio di amministrazione, ma chi è il Consiglio di amministrazione? C'è rimasto solo il Presidente perché i due consiglieri che del CDA facevano parte, mi sembra che si siano dimessi. E allora come la mettiamo? Come diceva un vecchio proverbio cinese? Le banche vanno a picco per la cattiva gestione del credito, non perché hanno carenza di patrimonio e di capitali. A buon intenditore poche parole. Perché c'è un seguito, eh?